Ok, per eseguire questo esercizio vi servirà una benda elastica. Posizionate la benda elastica sotto i vostri piedi. Da qui fatela passare dietro al vostro collo. Impugnatela con entrambe le mani, vi serviranno da guide. Da qui andate a portare indietro il bacino mantenendo bene il core attivo. Le mani guideranno bene la discesa delle vostre spalle verso i piedi. Cercate di mantenere quanto più tese le gambe possibile. Grazie a tutti.